Forse rompendo un po' la consuetudine, quest'anno nell'intervento del personale tecnico-amministrativo ho pensato che valesse la pena fare un appello alla coesione dell'intera comunità universitaria perché soltanto assieme si può far fronte alla responsabilità che l'università ha nei confronti della società e dei giovani in particolare. Oggi sicuramente c'è bisogno di un riconoscimento delle professionalità che vengono erogate da tecnici e amministrativi che supportano un'attività sempre più complessa e lavorano in un contesto veramente difficile. Supportare la didattica e la ricerca per consentire di fare ricerca e didattica di alta qualità richiede un personale di qualità e richiede un personale motivato con riconoscimento della qualità che è in grado di esprimere.